Era la stagione 2018-2019 quando la Fiorini Rugby Pesaro trionfava ottenendo la promozione in Serie A. Da quel campionato sono passati tre anni, un periodo in cui il Covid ha disturbato a dir poco il normale svolgimento delle ultime tre stagioni della palla ovale. Per i Kiwi giallorossi è infatti alle porte il primo campionato completo in Serie A, che li vedrà protagonisti sin dal debutto fissato il 2 ottobre a Roma sul campo della polisportiva Lazio Rugby. Per assistere alla prima casalinga bisognerà invece aspettare circa un mese, per la sfida in programma il 9 ottobre contro la neopromossa Primavera Rugby. Un campionato equilibrato e avvincente, formato da 11 squadre di cui 4 laziali, con trasferte lunghe e dispendiose, come ha commentato l'allenatore Augusto Allori. Le aspettative secondo me sono alte, perché vogliamo fare meglio l'anno scorso, vogliamo alzare un po' l'asticella. Cambia che sia un campionato vero, nel senso che ci sarà la discesa quest'anno di categoria per quello che finisce l'ultimo, che l'anno scorso non c'era. Quindi ci sarà la pressione di vincere sicuramente, quindi in quel senso troveremo un partito molto difficile. L'altro aspetto che cambia parecchio è che ci sono tante squadre nuove. Rispetto all'anno scorso, quelle più vicine a noi sono passate ai gironi, sono andate a giocare ai gironi nord e noi avremo parecchi trasferti a Roma. Partiamo che è una preparazione molto corta, perché il campionato inizia presto. Direi che nella mia esperienza personale non ho mai preparato una squadra così in tan poco tempo, però come ho fatto un ottimo lavoro di off-season e di pre-season, le aspettative sono buone. I ragazzi sono molto disponibili, a livello tecnico penso che abbiamo una buona organizzazione. Non partiremo al 100%, ma tutte le squadre partono nella stessa linea, quindi penso che abbiamo fatto un'ottima preparazione tutto sommato. Non è un obiettivo ovviamente quello di vincere il campionato, perché non pensiamo di essere ancora pronti per un passaggio di categoria. È un obiettivo di medio termine sicuramente, per cui in questo campionato ci interessa migliorare le prestazioni di quello precedente. Un passo alla volta, quindi migliorare le prestazioni di quello precedente significa provare a entrare tra le prime tre della prossima classifica finale. È un percorso non facile, il nostro campionato è molto agguerrito, con squadre molto ben organizzate e anche con progetti ambiziosi di vertice della classifica. Vedremo subito di che pasta siamo fatti noi, già dopo le prime tre partite. Sapremo se questo obiettivo è un obiettivo alla nostra portata o se dobbiamo invece ridimensionare questa aspettativa. Questo è un segnale che ci conferma che quello che stiamo facendo è positivo, che dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione e puntare ad accrescere il pubblico. Riusciremo a dare una risposta di maggior accoglienza al pubblico da quest'inverno, perché il Comune di Pesaro ci ha già garantito un intervento di copertura della tribuna e questo ci darà la possibilità di poter ospitare anche in condizione di maltempo il pubblico senza che si bagni.